L'abbiamo assorbita penso bene perché la prestazione comunque ci ha accompagnato in questa partita nonostante la sconfitta, quindi ci ha fatto riflettere che se riusciamo a essere concentrati tutti i 90 minuti possiamo giocarcela con chiunque. Una squadra diversa e sicuramente non più debole, anzi ho visto che è una squadra molto tosta e sono sincero, parlando anche con qualche ex compagno che l'ha già incontrata, mi ha detto che forse è stata la partita più difficile che hanno fatto, sicuramente quindi significa che sono una squadra assolutamente da non sottovalutare, ma secondo me cambia semplicemente che ora abbiamo un terreno di gioco sul quale possiamo giocare e esprimerci al meglio semplicemente, poi non è questione di onorare o meno, è questione di onorare qualsiasi partita va onorata, non vedo il motivo per cui bisogna farlo diversamente se il campo è brutto o bello.